Mi chiamo Enrico Citriniti, sono nato nel 1964, quindi all'epoca, nel periodo 1974-1975 di questi eventi terroristici delle bombe a Savona, avevo circa 10 anni. Beh, io l'unico ricordo che ho è che un giorno, non mi ricordo quale fosse, perché poteva essere, mi ricordo che era l'imbrunire, che non faceva freddo, quindi poteva essere tranquillamente o le prime di aprile, oppure eventualmente le ultime dell'autunno, del novembre. Mi ricordo che io ero con mia madre a Savona, in Via Pia, in un famoso e storico negozio di cappelli, che era all'inizio di Via Pia, andando in Via Pia sulla sinistra, adesso mi sembra che dopo tanti, tanti anni abbia chiuso, e stavamo comprando un cappellino per me. E niente, mentre eravamo lì sulla porta del negozio, praticamente c'è stata l'esplosione, tutti spaventati, mi ricordo il proprietario, tutti i vetri che non mi sembra che si siano rotti, e non so in che zona fosse. Io mi ricordo nitidamente che ero di spalle a Via Pia, e che ero uscito fuori, mi sembra, con mia mamma, a vedere questo cappellino alla luce ancora chiara, quindi potevano essere le 17, 17.30, e ci fu lo scoppio, e quindi poi abbandonammo l'acquisto, ovviamente, mia madre mi prese, mi sembra che andammo verso la... c'era un po' di panico, mi ricordano, lungo Via Paleocapa, e andammo verso la vecchia stazione dove c'era la fermata dei Pullman per tornare a Spotorno, io abito a Spotorno, all'epoca abitavo a Spotorno, quindi il mio ricordo è questo. Poi ho altri ricordi da bambino di 10 anni, immagini probabilmente a tinte o dalla televisione o dai giornali in bianco e nero, mi ricordo di questi androni sfondati con la polvere, e tutto quanto, ma tutto quello che posso ricordarmi è soltanto questo pomeriggio a Savona con questa esplosione fortissima che ci spaventò molto e che scappammo praticamente. Io mi ricordo soltanto il proprietario del negozio, che anche lui era terrorizzato e chiuso immediatamente la seranda, aveva, mi sembra proprio un negozio, era piccolissimo questo negozio, non so se voi siete di Savona, è un negozio storico di Savona, aveva tipo l'entrata e una piccola vetrinetta e aveva la seranda a scendere, mi ricordo che chiuse immediatamente il negozio, ma nel frattempo noi avevamo abbandonato l'acquisto e ce ne eravamo già andati, eravamo quasi all'angolo di via Paleocapa, quindi siamo andati verso la vecchia stazione, la piazza della vecchia stazione, dove la stazione all'epoca mi sembra ci fosse ancora, e lì c'era la fermata del pullman e prendemmo il pullman in mezzo a una confusione, non ricordo altro, diciamo. Mi sembra che ci fosse tanta gente, cioè in via Paleocapa mi sembra che ci fosse, poi sai quando capitano queste cose la gente è sempre affrettata, mi sembra di ricordare, io ho una memoria abbastanza fotografica, mi sembra di ricordare persone che corressero quasi, non so, volevano andare a casa, noi correvamo per andare a prendere il pullman, diciamo, perché l'esplosione fu molto nitida e violenta, tremò tutto, ma non si capiva precisamente in che zona fosse, io appunto ho questo ricordo che essendo di spalle all'entrata del negozio, l'esplosione mi avvenne almeno lo spostamento d'aria alle spalle, quindi verso il Priama, verso il mare, però non so se fosse quella di Via Giacchero, fossero altre, cioè poi adesso ho letto tutta questa serie, non me ne ricordavo nemmeno così tante sinceramente, cioè io pensavo fossero due o tre, in realtà poi leggendo sono state molte di più. Diciamo che leggendo a posteriori poi le cronache dell'epoca e degli anni successivi, mi sembra che non si è venuto a capo di chi fosse poi gli autori, l'autore materiale di questo, e quindi pian pianino il tempo lava tutto, e probabilmente mi fa strano perché poi l'Italia è un po' il paese delle dietrologie, ho letto recentemente per esempio un'ipotesi stravagante sul fattore americano, il pian dei corsi che potevano essere loro, io ritengo, questa come mia opinione personale, che fosse uno stragismo, un tentativo di terrorismo di destra, perché diciamo di quegli anni lì e anche altri episodi come l'Italicus, la stazione di Bologna, mi sembra che sono stati quasi sempre episodi di destra, perché si connotano più con le bombe, erano più l'estremismo di destra che faceva questi attentati. Come mia ipotesi personale ritengo che possano essere però persone che fossero legate al territorio, perché andare a metterli poi in tutti questi androni, al palazzo della provincia, cioè conoscevano bene il territorio, questa è una mia ipotesi sinceramente, che poi i giornali non ne abbiano più parlato tanto, non so per quale motivo, probabilmente, purtroppo, perché si è chiusa un'epoca, sono state molto pericolose, perché mi sembra che almeno quella sulla ferrovia poteva causare una strage, sinceramente, per fortuna la strage, a parte la povera signora che mancò nella casa di Via Giacchiero, non c'è stata, probabilmente si è un po' lasciato cadere nell'obbrio le indagini, anche perché non si è mai capito precisamente chi fossero, io ipotizzo quello.